Allora, l'arte non è solo divertimento o atti di mercati internazionali, ma l'arte è anche uno strumento politico, sociale che riguarda tutto quello che è anche la vita reale. Una protesta anche di quel fatto che sta succedendo alla Libia, questo mercato dove fanno l'asta gli esseri umani che stanno lì sul posto, fatto di vendite e di soldi e di denaro, con questi accordi che stiamo sentendo tutti in giro. E con questa protesta stiamo preparando il 9 dicembre all'ESC, a San Lorenzo proprio, 159, una performance che parlerà un po' di questa storia che racconteremo a voce alto tutte quelle cose che stanno facendo di brutto in questi esseri umani. Per dire no, stop alla schiavitù e stop anche alla vergogna di queste cose mercati commerciali, che non so, della globalizzazione. Ci vediamo a l'esca, il 9 e, one love, peace!